oh ho finito la preparazione per l'esame dai sono molto felice di questa cosa dai ok ora mi sono meritato un bel po di riposo ma che è che il mona che 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 batte la porta e che chiude urlando scusa scusa non sapevo non era mia intenzione chiudi quella porta lì per favore va là non c'è bisogno di incazzarsi così tanto ma chi è entrato lì c'è tutto bene ma scusa chi è questa persona scusate no scusa non è mia intenzione ma c'è come il gioco come cazzo ha fatto entrare a questo ma che cazzo sta succedendo dove cazzo sono finito e non potrebbe essere dimostra senco ma che paio non finisce più che sia basta non è passato più non è passato più Aiuto, c'è la cazzo! Ci mancheva solo questo, dai. Un po' di toss... Mademoiselle? Quattro! C'è l'espasso! C'è l'espasso! C'è l'espasso! Ok... Oh! Madese! C'è l'espasso! Non l'ho capito! In che senso 25 anni su... Ah! Mi tocca dire che sono ancora vivo! Ma... Vediamo un po'! Oh! 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 Oh, oh! Grazie a tutti. Dì, sarà stato un problema di tubature, dai. Chissà, pensa se passi aperto le finestre. Beh, torniamo al lavoro. Treat me like a fool, treat me mean and cruel, but love me. Break my faithful heart, tear it all apart.